Siamo che è un settore molto importante che vede quasi 1200 imprese, oltre 40.000 addetti, 2,7 miliardi di valore economico. Le cooperative torinesi diminuiscono di numero ma sono sane e ottimiste, i dati raccolti dalla Camera di Commercio di Torino. Nel primo semestre 2023 sono calate del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2022 e il trend di decrescita è decennale, ma questo non preoccupa il settore. Il dato positivo è che sicuramente le imprese, pur essendo un numero minore rispetto allo scorso anno, hanno registrato un aumento di fatturato con un consistevole aumento anche del numero degli occupati. Più del 70% delle società si dice ottimista per i prossimi mesi, nonostante il previsto rallentamento dell'economia nazionale e internazionale. L'impresa cooperativa, un'impresa molto legata al territorio, molto legata alle persone, ha al suo interno degli strumenti e delle caratteristiche che probabilmente le aiuteranno a uscire prima e a uscire meglio dalle difficoltà oggettive del paese. I primi tre settori di attività per le cooperative torinesi sono i servizi alle imprese, quelli alla persona e l'edilizia. Alcuni problemi però sono comuni. Il dato tendenziale del 2023 dà come indicazione la necessità della cooperazione di crescere e rafforzare le proprie competenze e non trova personale professionalmente adeguato da inserire nelle proprie imprese. È urgente anche alzare i salari. Per raggiungere questo obiettivo, secondo le cooperative, ognuno deve fare la sua parte, a partire dalle istituzioni.